ah non ho più mana io arriva giù udir arrivo anch'io vai lo chiudiamo arrivo anch'io bella quella roba che ritorna indietro sapevo esattamente però al telefono a chi non riesco a fare che li leggo nessera non va bene aiuta aiuta e anche l'assist noi ci abbiamo sempre posto giù quasi è stato un po' troppo veloce io ero ancora indietro arrivo giù arrivo anch'io arrivo come è fatto a uccidermi se non c'è un pentito l'ho 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 quanto scema ma sperava di scappare con la uti veramente si son resi l'ho 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 fulfil l'ho Grazie a tutti.